Praticamente su Walsh Scappa, 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 scappa Nooooo Tutta colpa di sto figlio della zocco, la bastarda troia E non mi rompete il cazzo di o... Dai, scappa, 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 scappa E va a fanculo Ho perso tutto questo E no, va a fanculo Ora te pezzo di merda, vieni con me, vieni Vieni con me Vieni con me Che bastardi Vieni qua, pezzo di merda Guardate se devo Guarda, oh perché Dai, cadi dentro Cadi dentro Cadi dentro Cadi dentro Ora Vaffanculo Alla strega Perfetto Perfetto Calma, calma Ragioniamo Ora la strega io così non ce la faccio a buttarla giù però E ovviamente lei è in mezzo ai coglioni Vaffanculo Vai a fare in culo Stronza, 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 che spi... È avvelenato ora col cazzo È avvelenato col cazzo ora E vieni qua E vieni qua Dio cazzo Allora, recuperiamo vita Ok Qua non ci... Non mi dovrebbe potere Nooo Come cazzo fa? Ciao a tutti ragazzi Benvenuti sul mio canale Io sono Walt Questo è un nuovo video di Minecraft Siamo sempre alle prese Con il tentativo di catturare Zombie villager In realtà off camera ci ero riuscito Avevo avuto anche una bella botta di culo Ne avevo catturati due Li avevo lasciati giù nella trappola Però Non so come mai Molto probabilmente Non avevo chiuso il buco qui Pensando che l'acqua Filtrasse la luce del sole Stupidamente Invece no Quando sono... Sono andato a dormire Per far passare la notte Mi sono svegliato E non c'erano più Quindi penso proprio che sia un problema di luce Ne avevo avuto culo Perché avevo preso sicuramente anche un Librarian E soprattutto due Due al bottone ne avevo presi Però la sfiga Cioè la sfiga Dovevo pensarci Sinceramente Pensavo che l'acqua ostruisse la luce E quindi Siamo appunto a capo Attenzione 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 Potrebbe essere il momento della verità Il momento che tutti con ansia stiamo aspettando Basta che non mi parte il creeper Ok il creeper è partito Allora noi prima Facciamo così Ok Vieni 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 Cadi Ok Ok Allora di corsa ora Di corsa come se non ci fosse un domani No Come se non ci fosse un cazzo di domani Dai 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 Madonna quello è esploso non si sa perché Come se non ci fosse un domani Madonna con due cuori sono rimasti Allora 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 T'ho preso Allora ora guardiamo subito Se funziona Se funziona Allora Questo qua E questo lo mettiamo qua Allora Indebolimento E me la d'oro Dai ragazzi eh Il paziente Il paziente mostra segni Di tremore Temperature elevate e un alto tasso di aggressività Mario sei tu? Niente il paziente non da segni di risposta Mario mi riconosci? Sono Wolf Mario Mario Non fare così Ti ricordi di me? Del nostro viaggio in barca? Mario È come dopo una serata alla festa della birra Mario Non ti preoccupare Dopo passa tutto Mario guardi Ti tengo anche la mano Mario Dai non fare così Non fare così Non fare così Ti ho detto Non mischiarlo il rosso al bianco che ti senti male poi Guarda lì come sei concio Guarda lì ti sei tutto vomitato addosso Guarda lì che schifo e boh Non ti vergogna la tua età Dai non mollare eh Eccoti qua Eccoti qua Oh sei un grazioso farmer Mario Ti ringrazio Allora sei proprio tu sei Mario Mario ti avevo dato per spacciato cazzo Quando ti ho visto cadere giù nell'acqua e bere sorsate di litri d'acqua salata Pensavo che per te fosse finita Invece eccoti qua Eccoti qua bentornato fra noi Fatti dare un abbraccio Fatti dare un abbraccio Ora ti vado a prendere subito tutto quello che ti serve Allora io te ne do 64 Perché si è chiuso per il cane la porta Perché sta resistendo Allora io te ne do 64 Mi prendo uno Un abbraccio Due He heee Presi sei guardiamocè Sette Non particelli non ci pensi un po' bravo allora sette smeraldi allora Mario non ti preoccupare che troveremo una soluzione al tuo stato ora statene un attimo buono lì non ti preoccupare non succede niente stai sereno allora iniziamo allora visto che abbiamo riportato con noi Mario iniziamo un po' a sfruttarlo allora ho letto una cosa che non sapevo in pratica non è proprio facile fare riprodurre i villager nel sottosuolo perché il programma di Minecraft praticamente riconosce un villaggio in base alle porte che ha sembra una cazzata ma è così quindi inoltre le porte devono avere sopra di loro un blocco solido e devono sopra questo blocco solido ci deve essere il sole quindi piccolo problema come faccio a farlo fare qui sotto sotto terra è un problema pensavo di risolvere questo fatto delle porte ci sto ancora in effetti pensando non sono ancora sicuro di quello che di come lo farò avevo in mente siccome qui fuori c'è un po' di spazio libero di far andare i villager in una struttura che creerò ad hoc però non è proprio così semplice intanto ora andiamo a scambiare un bel po' di smeraldi con Mario Mario ci sei? ok allora 19 patate potresti dirmi Walter ma perché ti sbatti così tanto per avere questi smeraldi ok quindi non accetti più questo trading vi spiego il perché perché una volta trovato Librarian praticamente con gli smeraldi possiamo comprare l'enchanting del mending che è un enchanting che praticamente messo sulle armi e sulle armature ti permette ogni volta che uccidi un mob una percentuale dell'esperienza che andavi ad acquisire va nella cura del dell'oggetto quindi praticamente una volta che tu hai fatto un'armatura di diamanti ogni mob che uccidi te la cura è che non è proprio male 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 e se non sbaglio quell'incantesimo lì si può fare solo ed esclusivamente con i villager cioè è Libraria che ti dà quell'incantesimo lì quindi ecco perché gli smeraldi ci servono anche perché ne costa 16 e non è proprio poco poco ragazzi per questo episodio è tutto vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto a commentare condividere iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti da Walt e il grande Mario il ritorno di Mario Mario di nuovo tra noi un saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao